Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici e un saluto particolare ai familiari di Gina che ci chiedono di ricordare la nostra cara sorella Gina in questa preghiera. Ecco, lo facciamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ieri abbiamo letto il Vangelo capitolo 1 di Marco con Gesù nella sinagoga di Cafarnao il giorno di sabato dove scacciava il demonio da un uomo posseduto. subito dopo l'uscita dalla sinagoga, ecco quello che succede, lo ascoltiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La socia di Simone era letto con la febbre e subito li parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti di varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero «Tutti ti cercano» e gli dissero loro «Andiamo se ne andrò, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». «E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni». Parola del Signore. «Lode a te, O Cristo». «La giornata di Gesù è iniziata con il Vangelo di ieri in sinagoga a Cafarnao. Giacomo, subito dopo, usciti dalla sinagoga e i protagonisti sono Gesù con Simone, Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, vanno nella casa di Simone e Andrea e lì gli parlano della suocera che era a letto, la suocera di Simone, era a letto con la febbre. Gesù subito si prende cura di lei avvicinandosi e facendola alzare, prendendola per la mano. immediatamente la febbre la lascia ed ella comincia a servirli». «Abbiamo sentito che venuta la sera arriva davanti alla casa di Simone tutta la città portando ammalati e indemoniati e Gesù si prende cura di tutte queste persone, guarendo molti affetti da varie malattie e scacciando molti demoni». Ha un successo straordinario. Si era dedicato a una singola persona in sinagoga, a una singola persona in casa di Simone, ora ce le ha tutte davanti alla casa di Pietro e si dedica nei loro confronti per aiutarli. Al mattino però sorprende tutti, senza avvisare nessuno, si alza presto quando ancora era buio, esce e va in un luogo deserto a ritirarsi in preghiera. Qui è interessante notare che Gesù non avverte nessuno, non sente il bisogno di comunicare a nessuno che fa questa cosa perché è una priorità assoluta. Ritirarsi in preghiera e lì è solo Lui, non c'è nessun altro, è solo Lui, non ci sono gli amici, gli apostoli. È un bisogno assoluto, un'esigenza prioritaria. Se la recava al mattino presto quando non disturba nessuno. ne ha bisogno Gesù. Si è trovata una giornata increscendo il giorno prima che è arrivata all'apice con tutta la città davanti alla casa di Simone e forse più che mai c'è questo bisogno di pregare il padre, per capire. Padre, cosa devo fare? Per ricordarsi o per comprendere ancora più con chiarezza padre, qual è la mia missione? Perché mi hai chiamato qui? Che cosa devo fare? La preghiera è molto importante per capirlo, per ritrovarlo. Quando a un certo punto Simone e gli altri lo ritrovano dicendogli tutti ti cercano, Gesù ha questa risposta che è frutto della preghiera, andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là. E poi sottolinea, per questo infatti sono venuto. Questa è la sua missione. Non si ferma in un posto specifico, ma continua a camminare, a incontrare, a seminare. Non è un viaggio dispersivo perché in questo viaggio lui semina la parola e la parola rimane. Se il terreno è buono la parola può fiorire. infatti dice, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Gesù cammina, passa e semina e la sua urgenza è di poter arrivare almeno a toccare tutti, almeno anche un incontro breve, ma tale da poter dare un seme, un seme potentissimo, racchiuso nella sua parola. Ecco gli incontri con Gesù sono veramente intensi e dovremmo chiederci, ecco questa parola che mi ha donato adesso, la tengo, la coltivo, che cosa vuole dirmi questa parola? Ecco Gesù si sottrae al rischio di essere idolatrato come guaritore, di essere messo su un trono di gloria umana. Non gli interessa tutto questo. Gli interessa salvare le persone, le anime, riportarle alla luce. E allora ecco che ha chiamato dei collaboratori, ma per questa missione non serve stare tanto in un posto, serve passare, donare il seme. Può essere fermarsi un po', un po' di più, un anno anche di più, ma non è una questione di tempo, è una questione di donare un seme che ha l'efficacia del regno di Dio. A noi quindi la responsabilità di accogliere un dono immenso che ogni mattina, ecco, ci viene rinnovato affinché non lo lasciamo sprecato o perduto. Preghiamo. Vieni Gesù. Riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. fa che io ti porti nel mondo interno. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora con questo andare oltre di Gesù che ha sempre nel cuore anche gli altri, anche che quelli ancora non ci sono. Continuiamo la nostra giornata. Bene, ciao a tutti. Fate che questo seme possa attichire con un po' di acqua ogni giorno. Verrà una pianta grande. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona giornata. Allora con Gesù. Ciao a tutti.